Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è mercoledì 23 febbraio 2022, eccoci pronti per la rassegna stampa di Pano TV, iniziamo la giornata pensando al santo del giorno, vediamo che il santo oggi è San Policarpo, di lui si sa poco, si sa che fu discepolo di San Giovanni Evangelista, quindi visse presso poco ai tempi di Gesù, nacque a Smirne nell'odierna Turchia, fu vescovo della sua città e primate d'Asia, poi venne a Roma ma fu martirizzato sotto l'imperatore Nerone, uno di tanti martiri che caddero nell'anfiteatro, non il Colosseo, perché ancora quando c'era Nerone il Colosseo non c'era, però insomma in un anfiteatro della capitale dell'impero, allora sotto Nerone. E vediamo le previsioni del tempo, il tempo si mantiene stabile sulla nostra regione, asciutto con cieli sereni per tutta la giornata sulle Marche, le temperature massime arriveranno fino ai 14-15 gradi, i venti saranno deboli, le temperature però sono in calo. Ed è un inverno particolarmente mite, quello appunto che sta caratterizzando questo 2022, problematico se non per quanto riguarda la vivibilità appunto delle persone, problematico per quanto riguarda la siccità dell'agricoltura e dei campi, il lavoro dei campi e quindi la crescita dei prodotti. Siamo in siccità come lo eravamo nell'estate scorsa. E allora apriamo i giornali per vedere le notizie del giorno, partiamo dal Corriere Adriatico. Sulla pagina di Fano vediamo in apertura una protesta, è protesta il Comitato dei Famigliari dei Degenti della Casa di Riposo Don Tonucci, Comitato dei Famigliari Impotenti, il Comune ci deve dare ascolto. Perché il Comune ci deve dare ascolto? Perché il Comitato chiede che venga approvato il regolamento appunto che regola l'organizzazione, regola l'attività del Comitato stesso nei confronti di chi, nei confronti di chi gestisce la struttura, nei confronti dell'amministrazione comunale. Cosa può fare, cosa non può fare e cosa appunto ci si aspetta dal Comitato. Da un anno c'è un impasse. Una prima bozza è stata presentata a febbraio-marzo dell'anno scorso, poi non è stata approvata, si devono fare dei correttivi, sono state presentate altre proposte nel corso dell'anno, ma fino ad oggi questo regolamento ancora non è stato fatto. Ed è un regolamento che viene autorizzato dalla Carta dei Servizi, che la stessa amministrazione comunale ha approvato. Quindi è un problema all'interno dello stesso Comune che deve essere risolto. E a proporre questo problema sono Maurizio Vizzini, che è il portavoce, lo vediamo qui nella fotografia del Comitato, è il suo presidente Roberto Pecora. Piazza Marcolini, uno studio del Comune sulle piante. Dopo le proteste per la centralina in Via dello Squero, ora le assessore Barbara a Barbara Brunori e Fabiola Tonelli, sono ancora alle prese con l'arredo di Piazza Marcolini. Insomma, il Comitato degli ambientalisti non vuole che si taglino le piante e dopo un botta e risposta vediamo che i due assessori si stanno affidando ad un nuovo studio per verificare lo stato di salute dei lecci, appunto, che corredono l'arredo di Piazza Marcolini. Asel pubblica, maggioranza trasversale. Siamo nel Consiglio Comunale che si è svolto ieri, nel tardo pomeriggio, fino a notte inoltrata. La mozione è approvata dopo tre ore di dibattito. Qual è questa mozione? È una mozione significativa perché evidenzia la spaccatura che c'è all'interno della maggioranza e all'interno del Partito Democratico. È una mozione che intende stabilire una volta per tutto, per tutte, che l'ASET non è cedibile. L'ASET deve rimanere pubblica, l'ASET non si deve fondere, non si deve unire con marche e multiservizi. E Seri non vota in titola il titolo perché poi Seri, dopo aver annunciato la sua astensione al momento del voto, è uscito dai banchi. Opposizione dunque unita, maggioranza spaccata. Come era prevedibile, non ha trovato l'unanimità degli intenti. La mozione che sostiene la natura pubblica di ASET, firmata da esponenti bipartisan. Vi ricordo chi ha proposto questo documento. Sono stati Giovanni Clini del Partito Democratico, Carla Luzzi della lista civica in comune e Tommaso Mazzanti del Movimento 5 Stelle. Una formazione anomala perché difficilmente il Movimento 5 Stelle si è attestato con la maggioranza. Ma questa volta il tema era molto importante e coerentemente, con quanto fatto sempre durante il passato, per quanto sostenuto, anche Mazzanti, capogruppo del Movimento 5 Stelle, ha sostenuto la natura pubblica di ASET. Liste civiche e sindacati, il cuore batte per la fusione. La sera precedente, ovvero l'altra sera, nell'ex chiesa di San Sebastiano a Bellocchi, si è tenuta una riunione dei sindacati per quanto riguarda la natura di ASET. Una ventina di dipendenti si sono presentati all'incontro di Bellocchi, proposta un'alleanza con Marche Multiservizi. Nominalmente è stato accettato che sia il Consiglio Comunale a decidere sulla questione, ma il parere dei lavoratori, il parere dei sindacati è quello di una fusione con Marche Multiservizi. Insomma, una fusione che potrebbe rendere più sicura la posizione degli stessi lavoratori nel caso in cui la società partecipasse alle gare per la nuova gestione dei servizi. Ma poi nel dibattito consigliare di ieri sera è stato appurato che c'è una normativa che dice che nel caso in cui la società che attualmente gestisce i servizi perdesse la prossima gara, quella subentrante sarebbe costretta ad assumere tutti i dipendenti della perdente. Mezzo milione in più di multe, effetto della fine del lockdown, quando il traffico si era rarefatto in città. Con la fine del lockdown il traffico è ripreso e sono riprese anche le multe nel comune di Fano. Nel 2021 sanzioni stradali della polizia locale per 1,9 milioni di euro, ma nel 2019 erano 2,6. Insomma, ancora non siamo arrivati alle cifre alte di due anni fa. Piano dei rifiuti, un precedente pericoloso. La consigliera regionale Marta Ruggeri del Movimento 5 Stelle contro l'interpretazione delle norme. Una presa di posizione decisa in Consiglio regionale. E poi abbiamo una bella vittoria di una ragazza fanese, 16 anni, Virginia Bancolini, che ha vinto gli 800 metri in versione indoor e conquista il titolo allievi. Una bella vittoria per questa ragazza dell'atletica. A Cartoceto c'è una componente della minoranza, ovvero la minoranza consigliare, insieme per Cartoceto, che protesta per l'assenza su due iniziative del Sindaco Rossi, ovvero sull'Ufficio Europa e Progetto Flaminia. Si tratta di un'opportunità non solo per la creazione di una sinergia territoriale tra vari comuni. Infatti qua in questa fotografia vediamo alcuni sindaci del territorio, ma anche il fatto che l'assenza del comune di Cartoceto nella creazione di un percorso non solo archeologico, ma anche culturale a 360 gradi. Sappiamo come la direttiva della Flaminia sia importante, sia ricca di spunti culturali, sia ricca di strutture che risalgono a duemila anni fa e quindi è un'attrattiva turistica di primo piano, possa incidere appunto sull'economia del territorio e più comuni si stanno unendo appunto, ma manca Cartoceto, manca il Sindaco Rossi. Guida turistica per Mondolfo, il comune non centriamo, è una precisazione che fa il comune di San Costanzo, il quale afferma ci sono operatori commerciali che intendono promuovere e fare raccolta pubblicitaria, ma non si tratta di iniziative promosse dal comune di San Costanzo. L'avviso agli utenti è arrivato nelle scorse 48 ore, a pochi giorni dalla convocazione promossa dal comune di San Costanzo per sabato prossimo sul brand turistico di promozione territoriale. Dunque una precisazione per quanto riguarda appunto il brand turistico. E vediamo anche la pagina di Senigallia dove si parla del processo che si svolge in Ancona sul caso della Lanterna Azzurra. La trappola della Lanterna Azzurra, nove a giudizio e c'è anche il Sindaco. È un processo questo che coinvolge anche i colletti bianchi che autorizzarono a suo tempo la discoteca di Corinaldo e non garantirono la sicurezza. Nessuna sorpresa dunque, tutti a processo i nuovi imputati che avevano deciso di non procedere con riti alternativi per rispondere alle accuse derivate dalla strage dalla Lanterna di Corinaldo. Si tratta di una commissione che a suo tempo era formata dal Sindaco Matteo Principi, Rodolfo Milani, rappresentante dei Vigili del Fuoco, Francesco Gallo dell'Azur, area vasta 2 di Senigallia, Massimiliano Bruni, perito esperto in elettronica, Stefano Martelli, responsabile del servizio di polizia locale, Massimo Manna, responsabile dello sportello unico attività produttive. A processo anche Cecchini, uno dei soci della Magic SRL, erano 9, i primi erano 6, qui è della commissione e poi si aggiungono anche altri tre personaggi, Francesco Tarsi, ingegnere ingaggiato dalla società stessa, e Maurizio Magnani, tecnico della famiglia Micci, proprietaria dell'immobile della discoteca. La banda del finto buco, 5.000 euro a settimana per i Green Pass in nero. All'infermiere infedele, appunto, che falsificava i Green Pass, il GIP ha fatto sequestrare quasi 20.000 euro. In un pizzino, Lucchetti registrava la contabilità degli intermediari. Insomma, una indagine che è riuscita a sgominare questo traffico illecito. Le tariffe erano salite fino a 500 euro, clienti addirittura in Maserati, ovvero clienti che ovviamente erano benestanti. E vediamo anche l'articolo che riguarda Pesaro, patto per la casa, affitti congelati per altri tre anni. C'è un accordo tra il Comune, i proprietari delle case e gli inquilini, contro l'emergenza abitativa. Finora oltre 3.000 famiglie hanno potuto beneficiare del canone concordato. C'è stata dunque un'intesa sui canoni abitativi. Fino al 28 febbraio del 2025 i valori del canone concordato resteranno immutati. Quindi un respiro di sollievo per chi ha difficoltà di pagare l'affitto. Un servizio per orientarsi nel mercato immobiliare viene offerto da uno sportello aperto dal Comune di Pesaro con i professionisti del settore. Rifiuti, le fototrappole, inchiodano i furbetti impennata di sanzioni per chi non conferisce in modo adeguato i rifiuti. Dall'inizio dell'anno sono state elevate a Pesaro 21 multe, elevate e altrettante sono in fase di verifica. Sono state implementate in questo caso le aree video sorvegliate e poi ci sono le telecamere itineranti che vengono spostate tra una isola ecologica e l'altra. Quindi attenzione a tutti, non solo ai pesaresi ma anche a chi risiede nell'altra località della provincia a smistare i rifiuti in modo corretto. E poi abbiamo, sempre per quanto riguarda i rifiuti, un'iniziativa interessante. Reddito di cittadinanza chiamata alle ramazze, dice il Corriere. Parte il progetto pilota del Comune e dell'ATS, l'ambito sociale, per la pulizia del centro e la cura del verde. Il primo step, il primo gradino, interesserà 16 percettori del sostegno, complessivamente 51 i coinvolti. I percettori del reddito di cittadinanza aiuteranno dunque a tenere pulita la città. Il progetto pilota, che durerà 12 mesi sul verde urbano, è tra i primi in Italia. Infatti nel Comune di Pesaro, numeri alla mano, sono circa 700 i soggetti residenti e percettori della misura di cittadinanza. Al via da marzo, il primo step dei due progetti previsti dall'amministrazione, ovvero valorizzazione del verde urbano e teniamo pulita la città. Quindi ci si darà da fare anche a chi percepisce il reddito di cittadinanza. Sorvogliamo all'articolo che riguarda il San Benedetto, perché ne abbiamo parlato tante volte. Stavolta la svolta sarà flessibile, non sarà più necessario un solo intervento, ma qui veramente per rimettere a posto questo enorme stabile ci sarà ancora molto da fare. Mentre passiamo alla cronaca. Schiaffi Alex in auto durante un litigio, poi lo sbatte fuori, ti lascio nei boschi. Si parla di un giovane di 24 anni di origini marrocchine accusato di maltrattamenti, lesioni e sequestro di persona. È stato condannato a tre anni appunto per questi reati. Cosa aveva fatto? Aveva litigato con la sua ex, addirittura stringendole le mani al collo all'interno della sua auto, poi l'aveva sbattuta fuori e la donna vagava nell'area di Villa Fastigi finché non è stata notata dai passanti e raggiunta appunto in soccorso dai carabinieri. Rossini è il non compleanno. Rossini è nato il 29 di febbraio, quindi festeggia il compleanno ogni quattro anni. Negli anni intermedi si festeggia il non compleanno. In questo caso la città di Pesaro coinvolge anche Fano. Alvia da oggi il tradizionale appuntamento con il buon non compleanno di Rossini bene due settimane rossiniane da 12 giorni molto densi dal 23 febbraio al 6 marzo per celebrare la vita del cigno pesarese. A questo si aggiunge anche l'estensione del cartellone a Fano. Al Teatro della Fortuna il 27 febbraio ci sarà uno degli eventi clou ovvero il Tancredi delle Rossini Opera Festival. Un evento eccezionale e Rossini guarda caso quest'anno entra sempre più nel Teatro della Fortuna dopo che ne era rimasto fuori per decenni diciamo così perché a Fano Rossini si è poco eseguito mentre era a 12 chilometri di distanza e quindi tutti potevano andare a sentire Rossini. E passiamo oggi al resto del Carlino. Sulla pagina di Fano l'apertura è dedicata ad una iniziativa interessante ed originale. Si combatte il caro Bollette. Infatti per questo personaggio si tratta dell'osteopata Paolo Gaggia. Il caro Bollette non è un problema perché ha realizzato una casa una casa completamente isolata. È una casa realizzata in legno. Produce più energia elettrica di quella che consuma. Non usa metano, non ha un impianto di riscaldamento interno ma sfrutta il sistema di ventilazione meccanica, l'isolamento termico e l'irraggiamento solare grazie alla sua esposizione a sud e sulla collina del Prelato. Ebbene è una casa passiva diciamo così che sfrutta le energie naturali e quindi spende pochissimo per quanto riguarda le fonti energetiche. Le uniche spese sono per l'elettricità. Ammontano a 1.500 euro all'anno però all'anno. È una casa di 250 metri. La vediamo qui in questa fotografia bellissima immersa in un contesto naturale veramente molto molto bello. I parenti degli ospiti della Don Tonucci. Il comune ci esclude dalle attività dopo oltre un anno dall'essersi costituiti in un comitato. I familiari degli anziani attendono ancora di essere riconosciuti dall'amministrazione. Abbiamo fatto quello che ci hanno chiesto. Cosa aspettano? Dicono appunto i due rappresentanti dei familiari della Don Tonucci. E poi anche il resto del Calino. Si occupa dei lecci di piazza Marcolini. Affideremo uno studio per tentare di salvarli. Hanno dichiarato durante un sopralluogo le assessore Tonelli e Brunori. Dopo il faccia a faccia con i componenti del comitato. E qui vediamo una fotografia del sindaco Massimo Seri un po' imbronciato. La maggioranza si spacca, ma Seri dribbla la crisi. Passa con il soccorso della minoranza la mozione che chiude alla fusione di Aset con Marche Multiservizi. Non se ne dovrebbe parlare più perché per l'ennesima volta il Consiglio Comunale ha detto che questa fusione non sa da fare e quindi non si dovrebbe ormai fare. Ma insomma non è mai detta l'ultima parola. Il sindaco esce dall'aula e si lascia libertà di voto. Spunta intanto un documento ANAC, ASET, non può essere società in house. ANAC, ovvero l'autorità nazionale anticorruzione, dice ASET non è una società in house, tanto da rifiutare l'iscrizione del comune di Fano nell'elenco degli enti pubblici che operano attraverso affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house. E queste valutazioni insieme alla decisione ANAC sono state fatte circolare nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima della seduta del Consiglio Comunale tra i consiglieri stessi che hanno partecipato. Ed è un documento che influisce e influisce appunto sulle decisioni. Influisce anche la dichiarazione che l'assessore regionale Stefano Aguzzi ha fatto ieri per quanto riguarda la mancanza del digestore a Fano, una carenza che deve essere rimediata, dopo che la Regione ha votato la rimozione, insomma ha votato parere contrario sui digestori che dovrebbero essere realizzati a Barchi e a Talacchio. Insomma questi digestori che Marche Multiservizi e l'altra società dovrebbero realizzare nel nostro territorio, mentre ASET dovrebbe appunto realizzare un terzo impianto. E poi qua ci sono i concessionari di spiaggia che elevano ancora una volta la loro protesta contro la direttiva Bolkestein. Nuovo piano di spiaggia azzerato dalla Bolkestein, questa direttiva ormai confermata a livello parlamentare blocca tutti gli investimenti che i bagnini si erano proposti a fare per rendere ancora più attraenti le loro spiagge, le loro strutture balneari. Al momento tutto è fermo e tutto è bloccato. Vediamo la pagina di Pesaro del resto del Carlino. Si parla del caso della direttrice scolastica di scuola elementare che ha vietato l'ingresso ai bambini non in possesso della mascherina FFP2. Sono stati messi alla porta ma tutti gli insegnanti sono solidali con la dirigente che si è posta in contrasto con i genitori di questi bambini che volevano che i bambini entrassero ugualmente senza mascherina. 29 docenti, tutti tranne uno hanno scritto una lettera al giornale per esprimere solidarietà alla dirigente. Si tratta di Melania Martellacci denunciata dai genitori che contestavano l'imposizione delle mascherine. E poi vediamo questo articolo di fondo pagina che è interessante. La lenta marcia verso la normalità per quanto riguarda la fine della pandemia. All'ospedale più posti letto non covid, aperta una medicina pulita. E questa è una delle novità dopo il ritorno della pneumologia all'ospedale a Santa Croce di Fano. Le lancette della sanità tornano lentamente indietro, ovvero alla situazione pre-covid. E questa una volta tanto è una buona notizia. Ieri mattina all'ex neuro dell'azienda ospedaliera Marche Nord è stata aperta una medicina pulita, cioè non covid, e sono stati accorpati i reparti sporchi, ovvero rianimazione, la subintensiva e la medicina covid, destinati a pazienti positivi. Un altro segnale appunto positivo dopo il ritorno della pneumologia nella sua sede naturale di Fano. E vediamo qui in questa foto, anche se il personaggio è travisato, riconosciamo Gabriele Frausini, il dottore direttore di medicina interna di Marche Nord. Un altro scempio al parco Miralfiore, gli ambientalisti e l'attacco del comune. Si schierano contro l'intervento di motoseghe e trincia tutto nel sottobosco del cuore verde cittadino. Ogni volta che si taglia una pianta gli ambientalisti insurgono, tutto come nel 2020 hanno detto, eppure non serve per ridurre lo spaccio, lo spaccio di droga, e non si può gestire un'area così senza competenze, hanno dichiarato. E poi qui l'articolo dei volontari col reddito di cittadinanza, che sono destinati a pulire le aree verdi e nel centro storico. Insomma, si sta dando da fare anche per loro. E qui invece abbiamo l'iniziativa di Valentino Rossi, che ha prenotato il Teatro Rossini di Pesaro. Valentino alza il sipario sul Team Money. Oggi il Tempio Cittadino, ovvero il teatro, sarà requisito per allestire l'evento di presentazione della squadra che domani andrà in streaming. Si aprono le porte alla Money VR46 Racing Team per allestire la presentazione al mondo dei motori di domani, tutto in programma alle ore 12 in streaming. Al vertice c'è sempre lo zoccolo duro tavogliese, formato da personaggi ormai noti. Vediamo che sono Alessio Salucci, Carlo Alberto Tebaldi e Pablo Nieto. Sarà il team manager della squadra del MotoGP, mentre a Luca Brivio è affidata la guida del team della Moto2. Insomma, una iniziativa promozionale da parte di Valentino Rossi. E siamo ormai in conclusione. Vi segnalo soltanto il problema delle case. Affitto sì, ma a canone concordato. Conviene a proprietari e inquilini. Un nuovo accordo per quanto riguarda l'emergenza abitativa che è stato stipulato dal Comune di Pesaro. Ebbene, questa era l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento domani alle ore 7, mentre per le notizie del giorno vi consiglio di assistere al telegiornale di Fano TV alle ore 20.30 di questa sera, condotto da Simona Zonghetti. E questo è veramente tutto. A risentirci.